Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Oggi parliamo della parola proprio. Prima di iniziare, però, voglio dirvi che questo video è in collaborazione con italki, che è un sito web che vi può mettere in contatto con tutor oppure insegnanti di lingua italiana o di qualsiasi altra lingua voi stiate imparando. È un sito web molto facile e intuitivo da utilizzare, dove potete prenotare le vostre lezioni di grammatica o di conversazione quando volete, dove volete e come volete. È un sistema davvero flessibile. Vi lascio un link nella descrizione del video qui sotto, tramite cui potrete ricevere 10 dollari da utilizzare per la vostra prima lezione. Allora, proprio. Sicuramente avete sentito questa parola tantissime volte e forse vi siete chiesti che cosa significhi. Proprio può essere un aggettivo oppure un avverbio. Cominciamo con la sua funzione di aggettivo. Proprio può essere usato come aggettivo possessivo in frasi impersonali o in cui il soggetto è indeterminato, oppure in frasi dove il soggetto è una terza persona singolare. Vediamo qualche esempio. Spesso si esprime la propria opinione senza pensare. Ciascuno è responsabile delle proprie azioni. Luca dovrebbe imparare a gestire i propri impegni. In questi esempi, proprio ha un valore possessivo e, essendo un aggettivo, cambia a seconda del numero e del genere del sostantivo che accompagna. Proprio può essere anche utilizzato come aggettivo qualificativo, come sinonimo di caratteristico. Per esempio, questo è un comportamento proprio dei bambini, cioè è un comportamento caratteristico dei bambini. La predilezione per le linee curve è propria dell'architettura barocca, quindi è caratteristica dell'architettura barocca. Questi sono gli usi di proprio come aggettivo. Diciamo che si tratta di usi molto comuni, che ricorrono spesso. Vediamo adesso la funzione di proprio come avverbio. Proprio viene utilizzato come sinonimo di veramente, esattamente, precisamente. Vediamo qualche esempio. È proprio così, è proprio quello che volevo dirti, questo quadro è proprio espressivo. Devi ascoltare la musica proprio ora, potremmo riformulare queste frasi dicendo. È esattamente così, è esattamente quello che volevo dirti, questo quadro è veramente espressivo. Devi ascoltare la musica precisamente ora, in questo momento, ok? Quindi, in realtà, l'uso della parola proprio non è complicato una volta visti vari esempi di utilizzo. Ovviamente, proprio è usato in molti contesti, in molti ambiti, anche più tecnici, magari. Per esempio, in matematica, proprio in proprio. Che però non vedremo qui insieme, perché a noi servono solamente quegli usi che ricorrono nella lingua di tutti i giorni. Questo è tutto per oggi, fatemi sapere nei commenti qui sotto se avete mai sentito questa parola in italiano, oppure se pensate che sia facile da utilizzare nelle vostre conversazioni. Grazie mille per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!